Tour in India. Kangra Fort Dharamschala. Ottobre 2017. Vi saluto, miei cari. Io sono Kryon del servizio magnetico. Ci troviamo ancora a Dharamschala. Questa particolare canalizzazione sarà leggermente diversa. Non si tratta di informazioni, ma è più una celebrazione. Vi trovate nell'area in cui viene insegnato l'essere uno, e voglio parlarne di nuovo. Ognuno di voi che sta ascoltando la mia voce è incluso. Non c'è alcuna esclusione, mai. Tutti gli esseri umani sono inclusi. Miei cari, il cambiamento di questo pianeta iniziato nel 2012 ha dato modo agli esseri umani di cominciare un nuovo cammino. E tutto ciò che avete ascoltato da me nelle dieci canalizzazioni che ho dato finora arriva a un punto. Proprio adesso, in cui vi devo dire. Fate un respiro. Perché l'energia che c'è qui, sin dalla precessione degli equinozi su questo pianeta, inizia a cambiare tutto e il modello del cambiamento è ciò che viene insegnato qui. I fondamenti dell'insegnamento, non la superficie. I fondamenti dell'insegnamento dicono che dentro di voi c'è davvero un pezzo della sorgente creatrice. In Occidente viene chiamato il Sé superiore e in Occidente c'è stata una miriade di processi per connettersi a esso, ma mentre in Occidente si è data importanza ai processi, qui non ce ne sono. Piuttosto c'è la coscienza. Questo è il processo. E sin da questo cambiamento, miei cari, sin dalla precessione degli equinozi nel 2012, la coscienza di tutti voi sta cominciando a essere ciò che chiamerei. Attivata. Potete sedervi e studiare ciò che è accaduto qui, potete ascoltare gli insegnamenti, potete rapportarvi a tutte queste cose perché questo è ciò che voi siete. Se state ascoltando questa canalizzazione, c'è la probabilità che a voi interessi la vostra coscienza, il potere che potrebbe avere. E improvvisamente, dopo il 2012, la capacità dell'individuo di afferrare l'unità di tutte le cose con sé stesso non è mai stata così grande. Questa è una supplica. Anziché semplicemente guardarvi intorno e dare un giudizio su che cosa è e che cosa non è avvenuto qui, prendetevi un momento e gettatelo via e osservate solo la zona che sostiene ciò in cui credete e rilassatevi dentro di voi, poiché voi siete potenti per via della vostra coscienza. Sin dal 2012, molti degli insegnamenti sul raggiungere l'unità hanno cominciato a essere modificati. E il motivo è perché questo è il tempo in cui gli esseri umani inizieranno a incrementare ciò che chiamereste l'evoluzione dell'essere uno, i concetti che avete udito riguardo alla compassione e all'essere uno, specificamente dai dotti a cui veniva domandato. Come riesci a perdonare chi ha ucciso quelli intorno a te? Come fai persino a cominciare a guardarli in modo compassionevole? La risposta che lui diede era complessa. La risposta che diede era tutto ciò che lui poteva dare in modo lineare, per descrivere un processo non lineare della coscienza, che è la compassione di Dio. E spiegare la compassione di Dio è quasi impossibile, eppure lui lo fece. Ciò che vi sto dicendo è che questi chiarimenti vi cominceranno ad accadere in modo naturale. Inizierete a capire come funziona un'anima compassionevole e lo farete senza studiare, senza tutti gli anni che potrebbero volerci. Il motivo è questo. Tutti gli antichi di questo pianeta predissero questo momento. In tutto il mondo predissero un tempo in cui sarebbe cominciata l'evoluzione della coscienza. Non è un caso che il mio partner mi abbia trattenuto dal venire qui fino a dopo il cambiamento, perché ora mi trovo al centro della coscienza dello studio sull'essere uno. E questo è il tempo e il luogo per offrire questa premessa, una supplica affinché voi capiate che queste cose sono auto-evidenti e che stanno cominciando a diventare parte di voi, non uno studio. Più le esaminerete, più vi approprierete della conoscenza dello spirito compassionevole, di ciò che significhi davvero. L'azione compassionevole. Avete visto così tante cose, avete incontrato i maestri, avete incontrato i bambini. Potete allora fare un passo in più, e incontrare voi stessi? Potete guardare voi stessi nello stesso modo in cui avete guardato i bambini? E questo vale a dire che voi siete preziosi, siete magnifici agli occhi dello spirito, in ogni modo possibile. E se ci riuscite, iniziate a comprendere che queste cose sono state quasi un invito per voi ad andare a livello successivo. Prima che voi lasciate questo bellissimo paese, queste zone, o anche le prossime che visiterete, cogliete l'opportunità, miei cari di fronte a me, di sedervi solo per un momento, e domandarvi. C'è qualcosa di più che mi è sfuggito? Vi trovate nel luogo giusto al momento giusto. Abbiamo parlato moltissime volte dell'unità tra l'essere umano e la sorgente creatrice, che voi chiamate Dio, e ora gli esseri umani sono in grado di mettere tutto questo insieme, più velocemente che mai. Il motivo per cui è una supplica, miei cari, è il seguente. Così come andate voi, va il mondo. L'essere umano illuminato non è solo uno. L'esplosione che può accadere dentro di voi è in grado di essere trasportata ovunque voi siate. E non importa se siete un insegnante o no, perché voi la porterete e gli altri la vedranno in voi. I vostri figli la vedono dentro di voi, i vostri nipoti la vedono dentro di voi. E questo cambia il mondo. Prendetevi un momento, e dite a voi stessi, c'è dell'altro? Poiché c'è, ed è così profondamente qui. Namaste. E così è.